Ciao, oggi parliamo dell'applicazione dei 13 passi del successo nella sessualità delle persone diversamente abili e di tutti gli immaginati. Prima di iniziare a spiegare il cosa, vi spiego perché ho deciso di farlo in questo modo. L'idea parte dalle persone con disabilità e da tutte le difficoltà che incontrano per riuscire ad avere una vita dignitosa e nel fare cose apparentemente semplici per noi, a causa del fatto che il resto della società non riesce a comprendere, ma invece di chiedere loro e capire, lì è margina. Quello che non vedo non esiste. Ogni cosa che le persone diversamente abili hanno ottenuto, grande o piccola che fosse, l'hanno dovuta sudare, chiedendo e richiedendo, mai che l'iniziativa fosse partita direttamente dagli altri. Così si manifesta l'emarginazione, attraverso un misto di egoismo, mi dispiace ma non è un mio problema, e paura, come faccio, come posso gestire questa situazione? Infondata tra l'altro perché non c'è nulla da aver paura, basta seguire le indicazioni ed ascoltare per capire. È proprio l'emarginazione a prendere il centro della scena, perché insieme ai diversamente abili ci sono tantissime altre persone e rappresentano il mondo dei diversi. Tutto quello che è diverso non può essere troppo basso, troppo alto, troppo timido, troppo estroverso, troppo vecchio, troppo giovane, troppo grasso, troppo magro, troppo chiaro, troppo scuro, troppo etero, troppo omo, eccetera eccetera. Il grosso problema dei diversamente abili è di tutti i diversi e di tipo sociale ed ho quindi voluto raggruppare tutte queste persone in una categoria che ho chiamato disabilità sociale, perché la disabilità come la diversità tanto soffrono i vari disagi perché c'è un blocco nella società più che in loro stessi. La chiave di lettura quindi per tutte le difficoltà è sociale e non dei disabili e dei diversi, quindi si potrebbe giocare con le parole e dire che è la società ad essere diversamente disabile. Ezio Bosco ha detto sono un uomo con una disabilità evidente in mezzo a tanti uomini con disabilità che non si vedono. Premesso tutto questo nella speranza di una seria riflessione collettiva e ricordando che gli altri si possono solo imitare a riflettere ma non cambiare senza la loro intenzione, dobbiamo capire come i disabili sociali possono aiutarsi a vivere la propria sessualità. In particolare vi guiderò nel provare a dare risposta direttamente o indirettamente a queste domande. Come faccio ad avere una vita sessuale soddisfacente e appagante? Come arrivo al piacere? È giusto, lecito pensare alla sessualità da parte di noi disabili sociali? Non c'è nulla di male nel piacere e nel voler esprimere la propria sessualità, anzi, vari studi del settore da parte di equip multidisciplinari hanno evidenziato che non solo la sessualità e l'esperienza erotico-sentimentale vissuta pienamente ed armonicamente fa bene, ma che non c'è differenza di abilità per quanto riguarda desiderio e soddisfazione. Il blocco arriva quasi sempre da idee e credenze sbagliate che sono radicate nelle persone, attraverso anni di condizionamenti, non per il benessere come ci hanno sempre detto, ma per una forma di controllo misto a paura, come detto prima, determinata l'origine del problema, l'impatto personale attraverso l'autocondizionamento, ma soprattutto che non siate più disposti a non vivere le vostre emozioni, vediamo come trovare le strade per avere più controllo sui voi stessi e le vostre scelte. Iniziamo. Il primo passo è assumersi il 100% di responsabilità per la propria sessualità ed il proprio piacere. Il passo più complicato ed importante, si tratta di accettare che, come con tutte le altre cose, anche con la sessualità funziona la legge di attrazione, secondo la quale tutto quello che sperimentiamo nella nostra vita è attirato da noi. Ma noi vogliamo sperimentare il piacere, sono gli altri a negarcelo. Vero in parte, perché se voi rispondete a questa privazione con sentimenti negativi, invece di prendere scelte e portarli avanti, otterrete sempre gli stessi risultati. Comunque fate delle scelte che condizionano la vostra vita. E visto che il senso di questo principio è riappropriarsi della capacità di scegliere, di essere responsabile e unico per i risultati ottenuti e riconoscere il nostro potere attivo, bisogna prendersi le colpe delle decisioni sbagliate ma sapere che si può invertire la rotta. Biasimare o lamentarsi dell'indifferenza non porta da nessuna parte e voi lo sapete bene. Anche perché ricordate che non si possono condizionare o cambiare gli altri. Ognuno ha le sue fantasie, i suoi tempi e le sue paure e se vogliamo essere accettati dobbiamo accettare i limiti altrui. Giuseppe Pontigia ha detto molte volte il disabile è commiserato e conciò discriminato proprio da quelli che hanno paura di riconoscersi in lui direttamente o indirettamente. Lavorando su di noi possiamo capire meglio anche se c'è qualche atteggiamento che non ma è da giustarlo. Comunque ci gioverà e ci farà sentire meglio. Un proverbio cinese dice che ogni percorso inizia dal primo passo. Quindi confrontate cosa vorreste con cosa invece ottenete e se le cose non combascono provate a cambiare il vostro modo di fare, pensare al riguardo. Albert Einstein diceva i problemi significativi che affrontiamo non possono essere risolti dallo stesso livello di pensiero che li ha creati. Quando sentite la necessità di vivere la vostra sessualità ditelo apertamente senza pensare al giudizio. Se vi venisse mossa l'ennesima critica invece di irritarvi e rispondere in malo modo dicendo frasi tipo parli bene tu vorrei vederti nelle mie condizioni come ti sentiresti. Spiegate che l'essere umano a prescindere dal livello di abilità, integrazione e quant'altro prova le stesse pulsioni e emozioni e necessita di soddisfarle per sentirsi vivo ed in armonia con il resto della specie. È uno dei modi per dare consapevolezza. Un altro potrebbe essere quello dell'immersione dei ruoli. Se tu fossi me cosa faresti? Vedrete che seguendo questo filone le risposte cominceranno a cambiare. Il secondo passo da fare è abbi chiaro il perché sei pulsionale. Bisogna capire che il nostro scopo nella vita è vivere la nostra umanità nella sua totalità. Quella spinta, quel desiderio, quella pulsione che avvertiamo rappresentano la voglia di manifestare la nostra espressione più elevata, l'amore puro ed incondizionato, attraverso lo strumento tipico dell'umana espressione che è il corpo, nel modo tipico dell'umana espressione che è la sessualità. Il disabile sociale, al pari del diversamente disabile, prova queste pulsioni ma le vive male o addirittura le reprime perché da potere ha idee e credenze o peggio paure del giudizio altrui sentendosi in colpa per un qualcosa di estremamente naturale e psicofisico. Comincia a credere anche lui, lei, che la sua condizione non permetta o dia diritto a certe cose perché non può farlo allo stesso modo. Chris Bradford ha detto disabilità non significa inabilità, significa semplicemente adattabilità. Terzo passo, decidi cosa vuoi, cosa volete veramente, che cosa vi darebbe veramente piacere, cosa vi farebbe sentire appagati. Bisogna dettagliatamente indicare cosa esattamente vorreste si manifestasse nella vostra vita sessuale. Molti disabili sociali non riescono nemmeno a formulare idee sulla loro sessualità e il loro piacere erotico e questo non fa muovere nulla. La poca conoscenza del proprio corpo e delle proprie sensazioni, la poca esperienza con i corpi altrui e le loro sensazioni, la scarsa dimestichezza con marie pratiche, soprattutto quelle più appropriate alle loro condizioni, crea un blocco che si proietta più sull'astratto indefinito che su quello che si vorrebbe sperimentare. Se dici voglio un'interazione e non dici di che tipo, potrebbe essere anche un colloquio online. Bisogna specificare senza problemi e senza pensare alle cose che potresti non riuscire a fare. Non tutti fanno tutto e non tutto è necessario, ma può esserlo la singola cosa. Martina Navratilova ha detto che la disabilità è una questione di percezione. Se puoi fare anche una sola cosa bene, sei necessario a qualcuno. Quarto passo è libera il potere della definizione del piacere. Qui si tratta di dettagliare ogni tipo di cosa che vorresti sperimentare con la sessualità. Bisogna non solo avere chiaro cosa, ma programmare anche il momento di realizzazione e la quantità. Quanto e dentro quando, con data ed ora, si desidera la realizzazione di quel determinato desiderio erotico sessuale. La scadenza serve a far capire al subconscio, data base centrale operativa, che è realmente un desiderio da consolidare e non una semplice fantasia erotica. Altrimenti non si attiverà. Non basta dire voglio sperimentare la mia fisiologia erotica. Quanto tempo vuoi dedicarci? 15, 30, 60 minuti? Quali pratiche vorresti sperimentare? Entro quando? A partire dal primo dicembre 2020 alle ore 21. Il quinto passaggio è credi che sia possibile e credi in te stesso. Se non credi di essere capace di gestire certe situazioni perché ti imbarazza il pensiero di poter avere certe fantasie o se pensi che non sia possibile la loro realizzazione, queste non si manifesteranno. Per ogni desiderio che ti auguri di sperimentare, devi sempre avere l'assoluta e piena convinzione che sia fattibile e realistica, ma soprattutto che sei perfettamente in grado di realizzarlo e gestirlo. Non è un fatto di abilità, ma di adattabilità. Devi convincerti che le sensazioni ci sono, ma che puoi provarli in modo diverso. Senza confrontarti con gli altri, pensa al tuo modo. Stephen Hawking ha detto credo che le persone disabili dovrebbero concentrarsi sulle cose che il loro handicap non impedisce di fare e non rammaricarsi di quelle che non possono fare. Sesto passaggio. Usa affermazioni, scene ideali, lavagne delle visioni e visualizzazione. Devi sempre tenere a mente che il subconscio produttore materializzatore non ha un linguaggio negativo e quindi non capisce se una cosa ci provoca dolore o se stiamo dicendo di non morirla. L'energia fruisce dove la nostra attenzione si focalizza. Devi quindi lavorare nel modificare le frasi che dici al cervello ed usare affermazioni. Se non vuoi sperimentare una certa cosa, invece di dire non moglio quella cosa, dici voglio provare questa pratica. Il subconscio poi lavora per immagini e se immagini in modo vivido delle scene legate alla realizzazione di quel desiderio e per facilitarti usi lavagne, slide con appresentazioni di quel desiderio, il subconscio si attiverà per realizzarlo. Ricorda che la mente non riconosce la differenza tra un'azione realmente compiuta da una vividamente immaginata. Settimo passaggio. Turbo caricali con i tuoi sentimenti. Il veicolo per dare una spinta ai nostri pensieri, dei sideri, sono i sentimenti, sono loro a creare la magia che porterà alla realizzazione. Ogni pensiero ci provoca dei sentimenti che veicoleranno l'energia del pensiero e creeranno i presupposti per rendere operativo il nostro subconscio. Quello che devi fare è concentrarti sui sentimenti positivi, accogli, elabora e reindirizza i negativi, ma focalizza l'attenzione solo sui positivi. Ottavo passaggio è crea una corrispondenza vibrazionale per quello che vuoi. Questa è la parte più divertente. Dovete autorizzi ad essere infantile. Proprio come i bambini quando vedono un nuovo giocattolo devi emozionarti, esultare, ridere, anche se ti sembra stupido, perché è quello che crea la vibrazione, che si proietterà poi nell'universo e ti restituirà in parallelo il corrispettivo desiderio realizzato o le idee per farlo. Attraverso la meditazione e la visualizzazione devi immaginarti nella situazione legata al tuo desiderio, fantasia erotica, come già realizzata ed esultare per la gioia di averla sperimentata. Sei nella stanza e cominci ad esaltarti, a commuoverti di gioia e dire wow sì l'ho fatto sul serio e quanto mi è piaciuto non mi è dolore di rifarlo e devi sentirlo dentro come reale e funzionerà. Nono passaggio agisci. Questa è la parte più importante per vedere la realizzazione dei tuoi desideri. Se pensi senza agire non si realizzerà nulla. Non devi lasciarti frenare dalla paura ma agire secondo l'ispirazione del momento. Quando arriva l'occasione, la persona giusta e senti la spinta erotica, l'adrenalina ed il desiderio che salgono, vai agisci. Non rimandare al prossimo treno o creare pensieri a supporto di credenze e paure limitanti. Vivi quel momento perché è quello che ti suggerisce l'intuito. Non bisogna mettersi in situazioni pericolose ma nemmeno entrare nel panico ed evitare di godersi l'esperienza piacevole. Devi essere come un archeologo che individua un sito da studiare ed iniziare gli scavi per scoprire cosa ne verrà fuori e quali rivelazioni potrebbero nascondersi dietro i reperti trovati. Devi però completare lo scavo se vuoi godere appieno dei tesori. Un sito lasciato a metà non produrrà nuova conoscenza. Pensati solo come creatura sessuale e concentrati sulle tue risorse invece che sulle tue mancanze così che tu possa focalizzarti sulle percezioni e divertirti. Neil Marcus ha detto la disabilità non è una coraggiosa lotta o il coraggio di affrontare le avversità. La disabilità è un'arte, è un modo ingegnoso di vivere. Decimo passaggio chiedi 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 e rifiuta il rifiuto. Qui inizia una parte un po' critica perché entrano in gioco ancora di più preconcetti, paure, pregiudizi e dubbi. Difficilmente puoi realizzare una fantasia da solo e in un modo o nell'altro hai bisogno di un aiuto. Che sia un atto sessuale, una pratica erotica, un po' di coccole o qualsiasi cosa implichi altre persone non devi vergognarti di chiedere. Se anche fosse solo un abbraccio o un bacio non chiedendolo non lo tieni. Quando vogliamo qualcosa da qualcuno l'unico modo per averla e chiederla. Perché a prescindere dalla risposta l'altra persona non ci legge la mente. Spesso c'è la paura del rifiuto che è uno dei motivi principali che fa evitare di chiedere sperando che l'altra persona possa intuire, offrirsi di sperimentare con noi. Ma un no non è un attacco personale, non ti stanno disprezzando o discriminando. È una risposta e prendila come tale. Hai fatto una richiesta e la risposta è stata no e tu chiedi agli altri e ad altri ancora fino a che arriverai sì e arriverà. Io però mi vergogno a dover chiedere certe cose e l'altro non è disposto a stare con me. Vado a ricordare due cose. La prima è che c'è il libero arbitrio e che non è personale ma solo una divergenza di opinione. La seconda e più importante è che molte persone che vorrebbero anche proporsi non lo fanno per gli stessi tuoi motivi. Il giudizio degli altri, il tuo giudizio e la paura di essere considerati dei perversi eccetera eccetera. Chiedendo tu si evitano questi intoppi a prescindere dalla risposta per facilitare l'eventuale rifiuto e tenendo a mente quanto detto poc'anzi puoi immaginare che ci sia un certo numero di no da ricevere per ottenere un sì e quindi ogni no che ricevi è un passo in avanti verso il sì. Non state sempre in difensiva perché vi offusca la visuale e potreste non riuscire a scorgere un'eventuale opportunità che vi si presenta. Bebevio ha detto dovete sapere che esiste una teoria che non è nostra ma che abbiamo fatto nostra in base alla quale le persone con disabilità si dividono fra rancorosi e solari. I primi sono quelli arrabbiati col mondo per quello che gli è successo, i secondi sono quelli che hanno deciso di viverla come una nuova opportunità. Undicesimo passaggio, chiedi, accogli e rispondi ai feedback. È importante chiedere i feedback per capire quanto i tuoi pensieri, percezioni e la realtà siano corrispondenti. Spesso sei convinto che l'altra persona pensi determinate cose ma la realtà è completamente diversa. Oppure quando sei convinto di non essere attraente è che sia impossibile per te essere apprezzato. I feedback ci fanno scoprire anche nella sessualità quanto lontane o vicine alla realtà delle cose stiano le nostre percezioni e quindi ci danno la possibilità di raddrizzare il tiro. Dobbiamo però tenere a mente le tre regole. Per riceverlo dobbiamo chiederlo, non arriva in automatico, soprattutto se dall'altra parte sussistono i timori prima citati. Secondo, saperli filtrare perché ci sono quelli giusti che sono costruttivi, consigliano un modo per migliorare una determinata cosa e questi dobbiamo saperli accogliere senza offenderci quando non ci piacciono. Ricordiamo sempre che non è un attacco personale. Ci sono poi quelli sbagliati, dati da persone che semplicemente amano criticare e demoniare gli altri ma senza dare consigli e questi non sono utili e vanno scartati insieme a quella persona. La terza regola, dobbiamo sempre ringraziare chi ci dà un feedback perché si è preso il tempo per aiutarci e ci ha prestato attenzione. È un modo per dimostrare che ci tiene a farci stare meglio e dicendoci che ci sono cose da poter fare, ci dice involontariamente che qualcosa c'è, sii solo pronto a riceverlo. Bevevi io ha detto ancora, è bello poter far vedere il futuro agli altri in momenti in cui a loro sembra che il futuro non ci sia più. Dodicesimo passaggio, pratica la persistenza con pazienza. Non sempre o quasi mai le cose arrivano al primo colpo. Dobbiamo quindi imparare a perseverare nella realizzazione dei nostri desideri. Se ci fermassimo ad ogni ostacolo non realizzeremo mai nulla. Immaginate tanti personaggi famosi e le loro storie spesso difficoltose, soprattutto agli inizi. Se si fossero fermati non avrebbero mai realizzato nulla. In più, praticando la persistenza, impariamo a goderci ogni tappa del nostro cammino ed apprezzarne ogni sfumatura e senza accorgersene ci ritroveremo ad aver realizzato il nostro desiderio. La fretta è sempre una cattiva consigliera e ci limita la visuale lungo il tragitto. La paziente perseveranza ci apre gli occhi e ci fa scorgere possibilità e occasioni che altrimenti non avremmo nemmeno considerato. Soprattutto nella sessualità entrano in gioco tante situazioni ed emozioni che andranno ad influenzare il rapporto di quel momento. Se riuscite a mantenere un atteggiamento di accoglienza e scorgere l'opportunità di quel momento potreste sorprendervi nel trovarvi a sperimentare qualcosa di piacevole e che non avevate nemmeno immaginato. Tredicesimo passaggio. Abbi un atteggiamento di gratitudine. Per avere un atteggiamento positivo, muovere l'energia realizzatrice, attivare la legge d'attrazione e vibrare in frequenza universale, devi imparare la gratitudine. Il fatto di avere delle pulsioni è già la prima cosa per la quale essere grati. Poi c'è la capacità di fantasticare le persone che conosciamo e con le quali poter parlare, sperimentare, i luoghi dove poterci sbizzarrire con le nostre fantasie eccetera eccetera. Spesso diamo per scontate certe cose o nemmeno ci pensiamo ma la gratitudine ci mette in moto la memoria della positività ricordandoci che cose belle e positive nella nostra esistenza ci sono, a partire già dall'essere erotici. Anche io ho vissuto nella desidabilità sociale, mi sono visto emarginato e mi è stata negata la possibilità di esprimere me stesso al meglio. Io che da persona mite e timida avevo fatto della sessualità il mio modo per condividere la mia passionalità, sincerità, gioiosità, di arrivare nello spazio più profondo dell'animo umano. Io che riuscivo a capire l'amore e la sofferenza che provavano le donne e proprio da loro venivo deriso, offeso e scartato come se fosse un elemento radioattivo e senza alcun valore. Tutto il mio mondo fantastico ed idilliaco sembrava distrutto ed i miei pensieri sembravano irreali e quasi folli perché avevo divinizzato un essere che in realtà era un mostro. La crisi più totale, la voglia di sparire fino a quando non mi sono fermato, mi sono guardato attorno ed ho cominciato a ringraziare e ad essere grato per quello che avevo ma soprattutto per quelle persone che mi avevano ferito perché mi hanno fatto capire che non appartenevo a quel pezzo di società, ma ero meravigliosamente diverso e come tale capace di vedere le cose con prospettive diverse. Senza quelle esperienze non me ne sarei mai reso conto e sarei probabilmente caduto anche io nella trappola dell'apparenza e delle mode. In più mi è capitato di rincontrare alcune di quelle persone dopo molto tempo ed ho scoperto che le loro vite, soprattutto sotto la sfera relazionale, erano state pessime e questo mi dispiace. Addirittura con una di quelle persone ci siamo messi a parlare e lei mi ha detto testuali parole, mamma mia come sei cambiato, sei una persona totalmente diversa. Io le ho risposto, io sono la stessa persona di allora, sei tu che sei cambiata ed hai aperto gli occhi ed infatti ora è la prima volta che stai parlando con me, allora forse non hai nemmeno sentito mai la mia voce. Ricordiamo sempre che siamo noi a scegliere con chi condividere e non gli altri a scegliere noi. In modo cosciente o non cosciente noi operiamo sempre delle scelte e se non si comprende che la diversità è risorsa, la vita sarà sempre piatta e senza significato. Tutto però dipende da noi e da quanto vogliamo essere autentici e non standardizzati. Diane Arbus ha detto quelli che nascono mostri sono l'aristocrazia del mondo, nell'emarginazione, dell'emarginazione. Quasi tutti attraversano la vita temendo delle esperienze traumatiche. I mostri sono nati insieme al loro trauma, hanno superato il loro esame nella vita, sono degli aristocratici. Io mi adatto alle cose malmesse, non mi piace mettere ordine alle cose. Se qualcosa non è a posto di fronte a me, io non la metto a posto, mi metto a posto io. Amici ed amiche, ho combinato per voi queste due mie competenze perché mi sta a cuore la vostra felicità e libertà. Per farlo bisogna che partiate da voi stessi ed accettiate che ci sono cose da fare. Tutto inizia dalla mente. Con questi 13 passaggi ho voluto creare un percorso che possa aiutarvi ad ottenere la vostra libertà sessuale. Spero che vi sia di aiuto perché il solo scopo di questo lavoro è gioire nel vedervi sorridenti e felicemente appagati. Se volete approfondire io sono qui, contattatemi. Nel frattempo iscrivetevi al canale per essere aggiornati delle future pubblicazioni di video motivazionali gratuiti. Alcune citazioni prima di salutarci. iscrivetevi al canale. non saremo mai tutti uguali, non avremo mai le stesse cose, ma saremo di sicuro tutti diversi. Allora buona diversità a tutti. Ciao e alla prossima.